22 agosto 1970 Il giorno in cui sono nata è la prima volta in cui ho visto Roma Occhi sgranati e un appetito da campioni Mio nonno era il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e mia nonna l'attrice Silvana Mangano Negli anni 60 erano l'Anfrey Bogart e la Loren Bacol italiani Quando voglio prendermi una vacanza però non ho dubbi su dove andare Ma ci sono ancora moltissimi posti che vorrei visitare Per questo soggiorno ho pensato di esordire con il Canal Grande Venezia Roma Parma Wow! Ciao! Sono Giada De Laurentiis Oggi vi porterò alla scoperta dell'Italia I panorami Questa è vita! I piatti più sfiziosi e i negozi più alla moda Cercavo delle scarpe rosse A Venezia faremo un giro in gondola e visiteremo i locali più noti Assaggeremo squisiti piatti di pesce e conosceremo la tradizione secolare della produzione di vetro soffiato Avete mai visto tanto parmigiano, prosciutto, pasta? Sembra il Fornox di Parma Andremo nel cuore dell'Italia, a Parma Capitale del buon cibo Che profumo! A Roma mia madre ci mostrerà dove comprare scarpe realizzate su misura Fantastiche! E mio marito mi porterà un appuntamento romantico Un sogno Sarà un viaggio unico La mia Italia È un privilegio visitarla